Sono Tania Silvestro e sono un ingegnere energetico. Attualmente ricopro la posizione di specialista relazioni commerciali. La mia passione per il mondo energy mi ha portato qualche anno fa ad interprendere un'esperienza professionale nell'ufficio tecnico di una società di vendita di energia elettrica e gas, svolgendo analisi sui mercati energetici, attività legate all'offering verso i clienti finali, sviluppi informatici e controllo del fatturato d'acquisto. Solo cinque mesi fa ho avuto l'opportunità, grazie ad Italgas, di avanzare all'interno della filiera energetica, passando dalla prospettiva della società di vendita a quella più ampia del primo distributore di gas nazionale. Le mie giornate lavorative sono molto dinamiche e coinvolgenti e spaziano tra diverse attività. Mi occupo della gestione delle richieste di accreditamento delle società di vendita sulle nostre reti e dei rapporti relazionali con le stesse. Partecipo attivamente all'iniziativa Click to be green, ma le attività non finiscono qui perché far parte del team relazioni commerciali e customer experience significa essere coinvolti in un processo continuo di innovazione e digitalizzazione che, per la peculiarità del mio ruolo, mi dà la possibilità di immergermi in nuove sfide e nuovi obiettivi ogni giorno. Il processo di accreditamento delle società di vendita sulle nostre reti gioca un ruolo di primo piano per l'accrescimento del nostro portafoglio clienti. In generale il primo accesso segue un iter delicato e complesso che richiede oltre a competenze specifiche di settore un approccio proattivo e di pieno supporto ai nostri potenziali clienti. MyTalgas non è solo gas, è un'azienda che guarda al futuro ponendosi obiettivi sfidanti ad esempio per quanto riguarda la transizione energetica e la sostenibilità ambientale e per quest'ultima il Click to be green ne rappresenta un esempio chiaro ed evidente.